Io aspetto la grande storia d'amore Voglio sapere chi era la ragazza con cui stavi Quella è una donna che ti manderai rovina Sono innocente Il vostro affare è solo un bluff Voi non possedete quei terremi Gli l'hai detto che tu sei ricco Ho tentato varie volte ma niente Per quale ragione non vuoi riconoscere Fabrizio come tuo figlio? Lasciati amare Da lunedì alle 18.30 su Ray Premium Canale 25 Canale 25